ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo oggi andiamo a fare l'interattivo che ha come titolo cosa devi sapere adesso vediamo cosa le mie carte hanno in servo per voi in questo periodo e vediamo se c'è qualcosa che dovete scoprire o semplicemente qualcosa di cui le carte vi vogliono mettere a conoscenza abbiamo due varianti variante 1 e variante 2 iniziamo subito con la variante numero 1 andiamo a vedere quali sono le energie ricordo che mi potete seguire anche su tik tok dove ogni giorno pubblico un messaggio per voi e devo dire che sto avendo molto riscontro è una volta la settimana la domenica mi trovate anche su twitch per una live dove possiamo anche interagire andiamo subito a vedere quali sono le energie per la variante numero 1 cuore fedele benissimo un cuore fedele qualcuno che vi è leale qualcuno che vuole il vostro bene che vi vorrebbe anche come dire aiutare un cuore fedele sintomo indica felicità lealtà devozione certe volte come dico sempre però la devozione può anche essere diciamo interpretata anche come una forma di schiavitù ecco perché dobbiamo fare attenzione sicuramente un cuore fedele è un qualcuno che ci vuole bene oppure noi vogliamo bene a qualcuno che gli siamo leali qualcuno che è indipendentemente da come vanno le le situazioni da come si si mettono le cose vi è sempre accanto ed è dispensatore di aiuto andiamo a vedere di che cosa parla la variante numero 1 qual è l'argomento della variante numero 1 vediamo un po' se le nostre sibille ci dicono qualcosa qui abbiamo una bella chiusura il messaggio di una chiusura cosa è avete intenzione di chiudere con qualcuno qualcuno ha intenzione di chiudere con voi volevo ricordare che tutto quello che viene detto nella stesa può essere riferito a voi verso qualcuno o a qualcuno verso di voi in base sempre a come agganciate le mie parole e a che settore voi agganciate le mie parole perché qui potrebbe essere una chiusura sentimentale potrebbe essere la fine di un'amicizia potrebbe essere la fine di un rapporto lavorativo la fine di un lavoro di un cambiamento di lavoro un qualcosa però che è fatto secondo a quanto dicono le carte in questo momento è fatto a fin di bene perché qua mi parla appunto del del cuore fedele però la chiusura diciamo che non è una cosa sempre bella da vedere dipende anche dalle situazioni potrebbe anche essere una chiusura come dire benefica nel vostro caso vediamo un po prendiamo tre oracoli ci sarà un incontro un incontro che darà vita a un isolamento allora qui ci sarà la chiusura di un qualche rapporto e questa chiusura perpetrerà nel tempo e non sarà una chiusura che diciamo si delinea in quelle chiusure che vengono fatte momentaneamente e poi ci sarà un ritorno qui è proprio una di quelle chiusure che sarà quantomeno definitiva e questa chiusura porterà a un isolamento potrebbe anche essere che questa chiusura ancora non c'è stata ma potrebbe anche essere che ci sia che ci sia già stata andiamo a vedere con gli angeli del cuore queste carte possono essere interpretate sia a livello sentimentale con una persona ma anche a livello emozionale amichevole adesso andiamo a vedere cosa ci dicono e capire qual è la la caratteristica ne prendiamo una sentimenti romantici i due sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli perciò qua c'è qualcuno che sta per chiudere una situazione o una relazione e a quanto mi dicono le carte ci resterà male potrebbe essere anche da parte vostra che siete voi a voler chiudere una situazione una qualsiasi tipo di relazione ma i sentimenti che che legano questa persona con cui voi volete chiudere a voi sono dei sentimenti importanti dei sentimenti romantici questo porterà a una sorta di isolamento vediamo un po cosa ci dicono i nostri tarocchi delle fate vediamo un po la luna potenti illuminazioni lasciandare le preoccupazioni e la paura comprensione di una situazione qua c'è qualcosa che viene capita qualcosa che viene capita e che vi spinge a chiudere questa situazione questa relazione questo rapporto di amicizia qualsiasi tipo il rapporto che voi diciamo vedete che si sta sviluppando sulla stesa è quello il rapporto che voi andrete a chiudere anche perché la luna mi fa capire che c'è qualcosa che non è stato detto non è stato non è stato chiarito e qua c'è un'illuminazione che vi porterà appunto a questo chiarimento e vi porterà a prendere questa decisione di chiudere questa storia ecco vediamo un po abbiamo l'eremita passa del tempo meditando in tranquillità insegnamento spirituale scoperta di se stessi allora qui mi porta la carta dell'isolamento e la carta dell'eremita allora qua due sono le cose o la persona con cui voi andrete a chiudere questo rapporto di qualsiasi natura sia tenderà a isolarvi potreste essere anche voi che tenderete a isolarvi dopo questo rapporto o è questo il momento in cui voi siete isolati appunto per cercare di capire il perché e come chiudere questo rapporto che avete con questa persona è che fondamentalmente voi volete chiudere perché il fondo della della variante questa perché voi volete chiudere questa situazione volete chiudere volete proprio un incontro che sia diciamo promotore di questa chiusura però il cuore fedele mi fa pensare appunto che questa persona ci possa rimanere male oh ne sono usciti due legge d'attrazione le relazioni interpersonali le attività che un tempo ti piacevano ora appaiono diverse man mano che diventi più sensibile e più consapevole delle energie esistenti ecco qua c'è qualcosa che si è trasformata in questa forma di conoscenza che voi avete con questa persona è un qualcosa che è andato a trasformarsi cioè è iniziato in un modo poi c'è stato un cambiamento importante in questa situazione in questa relazione di qualsiasi natura sia che vi ha portato a prendere questa decisione di chiudere libri lo scopo della tua vita ti richiede di scrivere, leggere, revisionare e vendere libri sulla spiritualità al di là di quello che dicono le carte voi state rivedendo questo rapporto state rivedendo questa forma di amicizia questa forma di come dire di relazione che avete con questa persona o è una situazione in generale che voi volete andare a chiudere andiamo a vedere adesso cosa ci dice la nostra stesa vera e propria vediamo un po' prendiamo un mazzetto e andiamo a leggercela allora vediamo un po' e qui qui c'è stato qualcosa che allora qui c'è stato allora sono un po' miste le situazioni perché per alcuni di voi è stata lesa la fiducia che voi avevate in questa storia in questa persona è stata lesa la fiducia e perciò la vostra scelta è stata quella di chiudere questo rapporto per cercare qualcosa di nuovo perché appunto avete avuto la paura che questa lesione della fiducia che c'è stata andasse troppo a crescere e perciò rovinasse definitivamente il rapporto che c'è perciò voi cosa avete pensato di fare state pensando o avete pensato di chiudere adesso in modo che perché la cosa non andasse troppo avanti e che il vostro sentimento per questa situazione o per questa persona andasse troppo a degradarsi perciò avete deciso di scegliere avete scelto di chiudere adesso perché forse in questo momento è la soluzione migliore prima che questa forma di sfiducia ecco perché mi è uscito il cuore fedele questa forma di sfiducia che è stata questa fiducia che è stata messa molto alla prova crescesse ancora di più e rovinasse completamente il rapporto e qui mi porta che molti di voi hanno una questione sentimentale in base a questa stesa perciò è stata messa appunto a rischio la serenità che c'era in questo rapporto d'amore o di amicizia o di fraternità è stato veramente messo a rischio perché qua mi porta reciprocità e un ritorno ci potrebbe essere una speranza perché anche la carta del nuovo amore mi fa capire che forse forse quando voi andrete a chiudere con questa persona ho dimenticato di nuovo di prendere i tarocchi quando voi andrete a chiudere con questa persona ci sarà un qualcosa che verrà detto un qualcosa che verrà chiarito che magari vi porterà a vedere la situazione in modo diverso vediamo in base a quello che mi dicono i tarocchi come si concluderà per la prima variante come si concluderà questa scelta della prima variante vediamo un po' cosa ci vanno a dire allora in questo momento siete molto angosciati molto demotivati ecco vedete le cose molto sul negativo e c'è un momento di blocco appunto questo momento di blocco che è un momento di blocco che riguarda più che altro una una riflessione una riflessione perché poi voi vi volete andare a muovere appunto per quanto riguarda quello che provate voi in questa situazione o con con questa persona provate a livello sentimentale e giustamente qua voi volete fare giustizia volete un po' di giustizia per quello un chiarimento più che altro per quello che vi è stato fatto e in questo momento appunto siete combattuti siete combattuti perché non sapete bene come gestire il dire e non dire come gestire quello che voi volete dire e quello che vi viene risposto ecco perché ecco perché qua le carte mi dicono di meditare abbastanza prima di prendere una decisione anche se la decisione che voi andrete a prendere vi porterà poi a un nuovo inizio che sia un nuovo inizio con questa situazione o con questa persona o che sia una chiusura definitiva e un inizio con qualcun altro qua le carte mi portano che la decisione che voi andrete a prendere sarà sarà positiva per voi anche se in questo momento siete molto isolati da tutto appunto per prendere questa decisione bene prima variante questa è la vostra stesa come sempre vi aspetto nei commenti se vi fa piacere vi aspetto anche su tik tok per il messaggio del giorno e io passo alla variante numero 2 eccoci variante numero 2 andiamo subito a vedere quali sono le energie legate a questa variante vediamo cosa devono sapere adesso gli amici della seconda variante vediamo un pochino orfani perché ci sentiamo così per seconda variante ci sentiamo isolati ci sentiamo un po' delusi ci sentiamo soli come mai adesso il periodo più bello dell'anno come dicevo come dicevo nel contesto avete bisogno di appartenere a qualcuno vi sentite soli tipo come abbandonati ma qui adesso c'è il periodo più bello dell'anno come dicevo arriva il natale e perciò questi sentimenti li dobbiamo un po' cacciar via vediamo e qui abbiamo bisogno appunto di amicizie amicizie che che vi portate da tanto tempo qui c'è bisogno di appartenere a un gruppo appunto come i cani appartengono a un gruppo appartengono a un branco voi vi sentite in questo momento che non appartenete a nessuno oppure avete avuto qualche parola avete avuto qualche disguido con qualcuno del vostro gruppo della vostra cerchia e in questo momento vi sentite un po' isolati però qua vedo che voi siete una persona abbastanza ricercata cioè siete una persona abbastanza valida non vedo perché voi vi dovete sentire così c'è qualcosa nel è successo qualcosa diciamo qua vi parla anche un pochettino di passato è successo qualcosa è successo qualcosa a livello di amicizie a livello di frequentazione amichevole che vi ha portato a sentirvi un po' isolati vediamo un po' cosa ci dicono i nostri oracoli c'è abbastanza sofferenza in voi allora qua abbiamo sofferenza e ansia sofferenza e ansia appunto per questa amicizia che forse si è allontanato un amico un'amica vi siete dovuti allontanare voi è come se a voi mancasse proprio l'amicizia mancasse un gruppo di appartenenza mancasse una comitiva e devo dire che queste sofferenze e quest'ansia riescono a persistere nella vostra nella vostra mente e nel vostro essere riescono a persistere e in questo momento voi dovete cercare di appartenere a qualcuno o quantomeno potrebbe essere che le carte vi vogliono dire di riavvicinarvi a queste di riavvicinarvi a questo gruppo di amici di amici a questa persona dobbiamo adesso vedere che cosa ci dicono gli angeli del cuore vediamo un po' a livello di emozioni torna a essere libero è il momento di riprendere il controllo della tua vita allora quelle carte mi dicono torna a essere libero ma qua già mi parla di una questione di sofferenza nei vostri che voi avete cioè è come se voi in questo momento vi sentite soli non riuscite ad aggregarvi a questa situazione di comitiva e qua la carta mi dice torna a essere libero forse torna a essere libero probabilmente torna a essere libero di decidere cioè decidi realmente se vuoi stare con questo gruppo di amici invece di soffrire oppure se vuoi stare da solo però se vuoi stare da solo e la cosa è logica che non devo vedere tutta questa tutta questa sofferenza allora andiamo a vedere la liberazione lascia andare il passato un finale apre a nuove opportunità è tempo di andare avanti allora le carte vi suggeriscono tutte e due liberazione e torna a essere libero di non pensare più a questa storia allora di non pensare più a questa storia e di pensare un pochettino a voi stessi perché c'è un qualcosa ripeto nella vostra cerchia di amicizia che è successa in passato e che voi ancora oggi ne soffrite voi ancora oggi ne soffrite e alcuni momenti della vostra vita sono legati a questo a questa amicizia finita a questa comitiva finita questo allontanamento però è un qualcosa che le carte queste due carte mi fanno capire che a voi ha fatto più bene che male e perciò perché ne state a soffrire perché la prima la seconda variante soffre questa lontananza vediamo un po il carro un traguardo importante autodisciplina autodisciplina e forza di volontà riconoscimenti pubblici allora qua le carte mi vengono a dire che voi qui è stato un traguardo importante che voi avete avete avuto o quantomeno andrete verso un traguardo importante una volta che vi sarete liberati da quest'ansia da questa preoccupazione allora le carte sono abbastanza chiare mi stanno dicendo che voi state soffrendo per un'amicizia finita nel passato questa questa forma di sofferenza e di ansia ancora persiste però le carte vi suggeriscono che vi dovete liberare da questa oppressione che sentite vi dovete liberare da questa oppressione e dovete raggiungere il vostro traguardo che indubbiamente sarà una sorta di rinascita per voi cioè dovete trovare la strada giusta liberarvi da questo pensiero e trovare qualcosa che sia consono al vostro stato di alla vostra persona integrità allinea le tue azioni con i tuoi valori e con l'anima e con l'ultima consapevolezza di ciò che è giusto per te perciò quale carte mi fanno capire che voi sapete cos'è giusto per voi voi avete capito cos'è giusto per voi voi avete state riuscendo a capire che questa amicizia non poteva continuare che c'era qualcosa che non andava allora mi viene da dire che molti di voi magari hanno capito che dall'altra parte questa amicizia era qualcosa di più e perciò avete deciso un pochettino di troncare sapendo anche di soffrire perché magari voi tenevate all'amicizia ma per non far soffrire l'altra persona avete deciso un po' di tagliare i ponti in modo da non far soffrire l'altra perché qua essendo un interattivo le situazioni possono essere veramente molteplici che sia una situazione di amicizia sentimentale un'amicizia che si trasforma in amore non corrisposto allora qui abbiamo una bella possibilità allora qui mi parla della possibilità di rifiutare questo senso di angoscia però c'è bisogno di un po' di coraggio dovete dare retta al vostro intuito e spiare nel profondo della vostra anima del vostro essere perché qua lo spiare mi parla spiare dentro di voi spiare dentro di voi perché voi sapete che dovete rifiutare questo senso di angoscia che vi portate dalla chiusura di questa situazione di amicizia chiamiamola così le carte vi suggeriscono di essere libero e di liberarvi da questo senso la carta del taglio allora se voi non riuscite a tagliare questa forma di legame che avete ancora con questa felicità che ormai è andata perduta perché magari voi vi sentivate bene nel rapporto di amicizia nel rapporto amichevole ma qui ci sono stati a quanto mi dicono le carte c'è stata parecchia invidia che ha leso appunto l'entusiasmo che si era creato e la felicità cioè fra la felicità e l'entusiasmo c'è stata l'invidia l'invidia ha creato questa sorta di taglio di crepa in questa storia di amicizia perché di amicizia mi parla di affetto e perciò qua c'è stato un allontanamento che a voi ha fatto davvero male però è anche vero che qua dobbiamo tagliare completamente perché non vedo che ci può essere un ritorno di qualcosa e di conseguenza qua mi parla semplicemente di una questione di malessere ecco qua stanchezza senso di non appartenenza molta stanchezza bisogno di riposarsi qui abbiamo appunto una non qua dobbiamo ritrovare l'equilibrio allora dovete un pochettino riposare perché mi esce la carta del sole perciò qua la carta del sole mi fa capire dopo il 2 di pentacoli che qua dopo aver preso una decisione ritroveremo un equilibrio e qua ci siete voi la mia regina di coppe perché siete molto sentimentale e qui c'è bisogno appunto di andare via da questo stato di oppressione da questo stato di sofferenza per qualcosa di più tranquillo e continuare oltretutto dovete continuare su questa strada dovete cercare di aggregarvi ad altre persone di trovare un'altra cerchia amichevole che vi possa far sentire meglio di come vi sentivate prima perché voi sì stavate bene però c'era qualcosa che non andava negli ultimi tempi qualcosa che vi ha fatto allontanare o qualcosa che vi ha allontanato da questa situazione amichevole e per voi è diventato veramente pesante avere una situazione di solitudine e di non appartenenza a un gruppo quello che mi viene dalle carte è che tutto questo è successo per colpa dell'invidia invidia di qualcuno che si è messo in mezzo invidia di magari dei rapporti che voi avevate con altri e che hanno un pochettino dato fastidio ecco però quello che le carte mi dicono è che voi dovete prendere una decisione dovete prendere una decisione e pensare a voi stesse pensare a voi stessi e andare via da questa situazione per un qualcosa di molto più tranquillo e aggregarvi a qualche altro gruppo cercare qualche altra amicizia amicizie nuove che vi possano far sentire meglio e vi possano far stare bene bene seconda variante questa è la vostra stesa come sempre vi ringrazio vi aspetto nei commenti se vi fa piacere vi ringrazio per le innumerevoli iscrizioni che stanno arrivando al canale stiamo crescendo sempre di più e questo è sempre grazie a voi vi aspetto su tiktok ogni giorno per un messaggio per voi mi raccomando seguitemi anche lì per consulti per informazioni sui consulti mi raccomando giù c'è l'indirizzo di posta io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo al prossimo video